Siamo con Valentina dalla trattoria Alpicchio di Martignaco, cosa avete preparato di particolare perché vedo delle pietanze molto curiose. Per questa sera abbiamo preparato le olive alla scolana che facciamo noi a mano, in questo caso rivisitate un po' in chiave triulana, per cui ripiene di fricco di padate della carnia, prosciutto di San Daniele d'Hop e poi le classiche con l'aggiunta di perfupo nero di acqua lagna. Ha un aspetto delizioso e anche il sapore sulla trattoria di marcia. Quali altre pietanze preparate? La nostra cucina di ispirazione marchigiana, per cui principalmente un occhio ai prodotti delle Marche, dai pecorini alla pasta che facciamo noi fatta a mano fatta in casa, il pane, un'attenzione particolare alle farine, che sono farine macinate a pietra, di provenienza biodinamica, in più poi selvaggina. Il tutto varia un po' in base alla stagione, per cui l'occhio è un po' ai prodotti delle Marche, ai piatti tipici marchigiani, però anche rivisitati in chiave personale, dai vinci sgrassi, ai coniglio e poi piccioni ripieni, insomma altre pietanze.